Ciao ragazzi, bentornati sul mio canale, io sono Anto Calcio e oggi siamo qui nel post partita di Sampdoria-Palermo 1-0, gol di Borini. Commentiamo. Ho già commentato. Cosa devo commentare? Il Palermo non ha fatto nulla ragazzi. Si potrebbe parlare del rigore o non rigore, su quello ci arriveremo, subito dopo quello che ho da dire io adesso. Mi sembra, mi sembra, poi per carità, c'è chi difende, chi non difende. Io oggi ce l'ho con tutti. Allora, premessa che prima di questo post partita volevo dire che ci sono purtroppo molti idioti, perché sono idioti, e li ho dovuti per forza bloccare dal mio profilo YouTube, nonostante sono sempre stata una persona rispettosa nei confronti di qualsiasi utente medio anche, che magari non conosce il canale, perché la gente se non offende, di conseguenza non è contenta. Quando uno fa la prediction prima o dopo il mercato, non cambia nulla. Sono opinioni personali che uno si fa in quel momento, a prescindere se il mercato è chiuso o aperto per altre squadre tipo il Lecco. Quindi volevo rispondere un attimo a queste persone che onestamente mi stanno dando onestamente fastidio. Poi se c'è qualcosa che mi dà più fastidio è il Palermo. Il Palermo ultimamente mi sta facendo un ritorno rapatico come l'anno scorso. Oggi siamo riusciti nella grandissima impresa di far resuscitare una Sampdoria che obiettivamente, dico, era lì in bassa la classifica che ha fatto forse solo una vittoria, un po' come il Lecco, e poi puntualmente la seconda vittoria arriva contro il Palermo. Palermo che sicuramente sarà in grado di risuscitare le prossime settimane altre squadre con molta probabilità conoscendo chi ci allena e chi purtroppo in campo cammina. Purtroppo camminiamo tutti. Onestamente non c'è nessuno che per adesso corre e mi dispiace dirlo. Siamo stati in grado con una squadra obiettivamente molto più forte di fare pena. Non c'è nulla da commentare. Loro hanno meritato, hanno fatto dei tiri, sono arrivati in porta. Noi se siamo arrivati in porta forse nel secondo tempo quelle due volte così, ma per il resto basta. Per me non è mai rigore, ad esempio, quello di Lucioni. Per me, ecco, riguarda la terna arbitrale, dico, fatevi ricoverare perché davvero. Quando dite che c'è il VAR-Check, quello Check-Var, come cazzarola si chiama, andatelo a vedere prima, piuttosto che confermare un rigore. Visto che a noi ogni volta se c'è un rigore netto lo vedono, lo convalidano e poi lo vanno a rivedere al VAR e lo annullano. Misteri veramente del calcio. In ogni caso, poi fatemi sapere nei commenti che ne pensate se quello era rigore o meno. In ogni caso, per quanto mi riguarda, visto il rendimento delle due squadre durante la partita, io penso che sulla carta la Sampdoria avrebbe in ogni caso meritato questa partita. Perché loro, cioè oggi obiettivamente, parliamoci chiaro, oggi era una gara a chi faceva più schifo. Noi siamo stati in grado, dopo la bella figura che non poteva mancare in casa contro il Lecco, di avere anche la prima sconfitta in trasferta perché giustamente dopo i tanti risultati utili consecutivi, con Corini si sta ritornando come l'anno scorso a fare i risultati utili negativi. Non utili consecutivi, utili negativi. Quindi piano piano iniziamo in nuovo a fare pareggio sconfitta, pareggio sconfitta. E non è perché io sono uno che vuole partirci ecco sconfitto, ma perché questa squadra è come se non avesse un'anima. Anche nonostante le individualità che abbiamo lì davanti sono stati pressoché nulli, nulli a centrocampo, in attacco, in difesa che dovevano essere tra virgolette un muro, subiamo anche quei pochi gol che dobbiamo subire. Quindi non è solo una questione di fortuna o sfortuna, anzi siamo stati abbastanza fortunati oggi. Perché se oggi Kasami gli girava, che comunque oggi Kasami ha fatto un partitone ed è stato più forte di tutto il centrocampo in questa partita, obiettivamente, anche del nostro, sì, ci metto la mano sul fuoco. E non è tanto un discorso, eh vabbè ha fatto la partita dell'ex, sì va bene. Lo sappiamo tutti che tutte le squadre si impegnano contro i noi, addirittura era l'ultima chiamata per Pirlo nella partita contro il Palermo, ma non ci sono scuse. Una società che investe tanti soldi per poi fare queste brutte figure con le squadre ultime in classifica, io onestamente mi farei una, non so, una leggera riflessione su quella che è la guida tecnica e su quelli che sono i problemi in campo, perché obiettivamente oggi in campo tu non ci sei mai stato. Basta, cioè la Sampdoria nonostante i limiti ha messo il cuore, ha messo la voglia, cosa che non abbiamo messo noi e non mi prendete la scusa, eh vabbè ma il rigore ci ha destabilizzato, tu hai una rosa più forte. Se vuoi competere, vuoi vincere questo campionato, o quantomeno vuoi salire in Serie A, che sia a secondo posto, che sia a playoff, tutto lo devi conquistare nel campo. Non devi sempre lamentarti se c'è il rigore, non c'è il rigore per noi o contro di noi. Tu hai una squadra più forte e devi dimostrare di essere forte. Non puoi sempre ad appellarti a quello che è stato il contatto in aria, se l'arbitro è scarso o meno, quello per me non è mai rigore. Ora qualcuno dirà, eh vabbè, ma un punto è sicuramente sempre meglio di zero contro la Samp. Un punto. Ci siamo sbagliati solo gli ultimi 5 minuti, così tanto per mettere un po' di pepe alla partita per dire, ah Corini comunque ci ha detto di... perché poi alla fine l'atteggiamento è quello, se la mentalità è quella ragazzi. Non c'è altro da fare. È fine, fine. Se vuoi salire con questa squadra, con questo atteggiamento, te la puoi scordare la Serie A. Mettemocelo bene in testa, perché così non andiamo da nessuna parte. Ditemi la vostra, se... ragazzi vi giuro, se oggi siete tutti in disaccordo su quello che ho detto, vi prego, non mi parlate, non scrivete. Io voglio solamente, oggi veramente, oggi faccio il dittatore, oggi voglio solamente gente che è d'accordo con me nei commenti. O comunque se qualcuno ha da dire qualcosa, la può dire, ma in una certa maniera, ecco, in maniera comunque obiettiva, per come ha giocato il Palermo e per come ha giocato la Samp. Io concludo qui il video, sempre forza Palermo a prescindere da queste brutte figure. E nulla ragazzi, alla prossima. Ciao!